La necessità della prevenzione primaria, come per il caso delle scuole, che io ebbi a sollevare come Presidente dell'Ona già all'inizio del 2012, con un report che all'epoca riportava 2.400 scuole, confermato dal Censis nel 2014, e purtroppo nel tempo, nonostante molte scuole siano state bonificate, l'amianto è ancora presente, pressoché con un numero invariato, perché tante se ne bonificano e tante ci vengono segnalate con contaminazione di amianto.